Buon Natale, buon Natale, buon Natale. 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 Buon Natale. Buon Natale. e mi sa anche a me dal tifo, mi sa di sì probabilmente giocano con i colori del Nibionno che sono unite stai filmando, stai mi vedi, sennò è tranquillo grazie conta se chiede ciao sì 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 le t ótimo è sicur bin grande boffo grazie 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no O comunque mio figlio dopo un mese a tranci ha detto che va avanti a studiare si, cambia idea guarda che c'è il pelle guardalo pelle giocagliela sopra via via non sei accorto eh si no, ha detto che mi piace la vorrei più ah, è quello che ha fatto la settimana ha fatto due settimane è caldo ma faceva caldo dai cisco, caldo cazzo scaccia vai bovi, scaccia bravi 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 anche i rolli dai spingi su qua come si fa il tema dai come si fa il pallone per giudarci dai questo ciao ciao dai matti mi fallo no? come fallo contro? ma questo lo fanno contro vai va bene così dai oh ma l'azzo ho pagato l'anno eh ma gli è andato poco ah si si allora fio primo te vado giù da lì dai 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 lì vai oh tu frizzo frizzo ha freddo non ce la fai dai mattia dai mattia uomo 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 bravo pelle bravo pelle gioca vai dai miro dai 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 Grazie. 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 Vai vai. Cannabis. Mi piace che c'è la mamma di su. Oh ti. Vai via! Bravo. Gli archivi tirati. Gli archivi tirati. E fanno con l'aria! Gli archivi tirati! E fanno con l'aria con la tampa inizia a fare. Gli archivi tirati! Questo! E' un nuovo buono! A un nuovo buono! Grazie. Non la portiamo qui. Non la portiamo qui. Dai, dai, Pris. Dai, Pris. Dai, Ria. Guarda. Dai, dai, dai. Uomo che arriva, Cisco. Dai, Mario. Guarda che dietro Cisco. Dai, Noce, Noce, Noce. Buongiorno. Dai. Dai, Mino, Mino. Se viene por qui. Dai, io lo capisco. E' la nuca di viene a portare. Io è così, io sono così. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. grande buffo è il nostro pelle bravo 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 Porta, porta! Vai su, disco! Dai, dai, dai! Va bene, Mino, dai, dai! Dai, please! Dai, Elia! Bravo, Joe, bravo! Bravo, Wolfo! Bravo, Mario, vai! Vai, vai, Mazzo! Vai, Mazzo, esci tu! Vai, vai, Mazzo! Mazzo, va bene! Bravo! Que terreno! Que terreno! Ayo! Vigole! Mazzo! Partiex! Ayo ke trampak. Misalnya ada trampak. Ia, bro. Grazie. 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 Vai a pussare, vai a pussare. Vacca! Bravo osso. Porca vacca che vota. Ha preso una pallonata che è veramente difficile. l'ha richiamato 300 volte credo che non ce l'ha fatto è un po' a casa è un po' di 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 esatto era rigore però era rigore era rigore era rigore era rigore era rigore era quello stavo pensando un attimo con cosa stai dicendo ci ho messo un attimo è un po' di bravo adesso prova è un po' di bravo ha se l'è fuori gioco e mi rifiuto bene sono una parola della della del 10 che non ha subito il fan cioè che non ha fatto quando l'ha subito tra le persone bravo 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 stai facendo un pressing della magia guarda lo largo bravo wow ma figami che c'è il bravo bravo che figlia che genio via sulla linea viena dai Joe mi raccomando visto l'altra volta mi raccomando l'altra volta dai dai che è nostra e io al gioco e poi i giochi Fungu è un attimo 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 E' difficile che lo capisca Un allenatore la settimana scorsa gli ha detto che l'attaccante può entrare in aria solo a rinvio del portiere Il difensore no, l'attaccante è solo No, ho capito, però ficattieri, guarda che così, guarda un secondo, c'era fuori giocato Però ficassettine In due, sono in due Peccato, peccato In due, bene in due Per chi sa vedere Uno scaravento di uomo Con la mossa che c'è di sopra la spinta Di panza, arriva fino a 12 giorni Un gioco in due Nell'area di riporto Raga, forza Fabian Dai! Dai, bravo Fai lo, è arbitro Ma sì Sì, ecco dove si avvicina Ma non so se stavo... Stavo spingendo Sto spingendo ancora il... Si è appoggiato... Si è appoggiato... Ma lui è attaccante Però... E guarda che sono il figlio che è putto Ok Dopo tanto c'è il filmato Se si vuole di venire Ma venire il sogno Io ti scriverò magari in minuti Dai ragazzi! Come fa essere? Figa, cambia tesi Ma come fai se fa? Ma fai te lo vedi Non è strano, io ero che buttano fuori No, non lo faccio in me E' soltanto che non ho visto perché ero famoso Esportami, ma è tutto così Se vuoi dire E' franciato, ce l'ho bella mia lista Sì. La fisca è anche il team, così giusto. Noi, 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 noi. Sei, noi, noi. 20 metri. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti